Musica Cominciamo con lo stretching sciogliamo i muscoli cardiaci allentiamo i pesi che ci bloccano e vai con l'allenamento le mani avanti per aiutare chi ha bisogno un piegamento per i momenti difficili lavoro sui fianchi per cambiare la vita e poi di corsa verso gli altri lo sport è questa vita ci vuole allenamento per arrivare in alto e per cambiare il mondo la vita è la tua sfida dopo una sfida ricominciare sempre avanti a tutta le mani mosso beata la vita è la tua sfida ci vuole allenamento per arrivare in alto e per cambiare il mondo la vita è la tua sfida dopo una sfida ricominciare sempre avanti a tutta dritta prepariamoci per l'octatron otto sport per voi calcio pallavolo pesi anelli caffetta judo basket raggiungere raggiungere lo sport è questa vita ci vuole allenamento per arrivare in alto e per cambiare il mondo la vita è la tua sfida dopo una sfida ricominciare sempre avanti a tutta dritta beato chi vive va campione ora la vitaGonomia l'obcusa – – – – – – – Autore dei sorrisi